Francesco Vicario, la sua location del cuore nel Lazio e perché? Ma sono tanti anni che giriamo una serie, si chiama Che Dio ci aiuti, in un chiostro meraviglioso di Roma, di Trastevere. Ne ho viste tante, ma quel posto è forse la mia location del cuore, onestamente. Bellissimo. Non posso dire tanto dove è perché non voglio che ci si vada, però è meraviglioso.